Oh mio dio raga, oh mio dio, l'avete visto? L'avete visto? C'è un mega Charizard X! Che figo! Ce ne sono due! What? Questo è shiny! È shiny! Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon! Ragazzi, allora, direi di lasciare un bel like quest'oggi. Bel like, bello almeno come questa mano. Perché? Perché continuo a insistere nell'utilizzare sta roba? Perché ragazzi, oggi siamo qui con l'aggiornamento. Abbiamo aggiornato il server alla nuova versione 5.0.2 che aggiunge, principalmente tra le varie cose, le palestre all'interno del gioco. Quindi non quelle fatte noi, ma le palestre con gli NPC e soprattutto le mega evoluzioni. Per ora Charizard, XY, Blastoise e Venosaure. I mega Pokémon sono praticamente inseriti al posto dei boss. Quindi i boss non ci saranno più, o meglio ci sono, ma diventeranno i mega Pokémon. Quindi per il momento, ogni boss del gioco sarà o Charizard o Blastoise o Venosauro in forma mega. Non vi spaventate se ne vedrete tanti nei vari video, perché appunto non ci sono più boss Pokémon normali, ma i boss diventeranno solo i mega Pokémon. Ovviamente, tra non molto, aggiungeranno anche altri mega Pokémon e quindi la situazione si fixerà. Hanno cambiato altre robe minore, tipo la texture del robino fa cagare. E tra l'altro, devo purtroppo aggiustare anche la nuova sala che ho fatto, che non vi faccio vedere, perché uscirà un video sabato, che ho già registrato, con la nuova sala del team. Quindi ragazzi, quello che andremo a fare sarà utilizzare un TP che abbiamo messo al centro della mappa, vale a dire nel nostro Poké Center, che non è il centro preciso, però diciamo che è il centro della città. Quindi attraverso questa botola si va sotto e qui abbiamo un TP che ci trasporterà a 210.000 blocchi di distanza, in lunghezza, cioè in longitudine e in latitudine. Perché questa cosa? Perché le palestre devono spawnare in un'area nuova, in un'area illibata. Quindi andremo ad esplorare di intorno di quest'area, in cui non è mai stato nessuno, perché siamo lontanissimi, sperando che appunto ci spawni una di queste strutture nuove, vale a dire la palestra. Poi se ci capita di trovare anche un boss, un Mega Pokémon, ben venga, sarebbe figo vederne qualcuno insieme. Quindi ragazzi, prendiamo il nostro Zapdos e iniziamo a svolazzare un po' in giro. Tra l'altro le Mega Pietre verranno inserite nei loot, ma per adesso vengono droppate solamente dai Mega Pokémon stessi. Quindi tu batti il boss, lui ti droppa la sua Mega Pietra e praticamente poi con quella la dai al Pokémon e lo poi faremo evolvere. Il problema è che per ora ci sono solamente le Mega degli starter di Kanto. Dato che non si possono usare gli starter degli altri, io se mai anche trovassi una Mega Pietra non posso farveli vedere in azione, purtroppo. E quindi per il momento ci attacchiamo. Però se ne becchiamo qualcuno, ragazzi, lo battiamo, ci facciamo la Mega Pietra per il momento che ci sta tutta come cosa. Oh mio Dio! Oh mio Dio, quanto è grosso! Che è sta cosa? Raga, che diamine è? Venusaur leggendario? Mega Venusaur leggendario? Ma sei fuori di testa? Ed è shiny! Ragazzi è un Mega Pokémon shiny! C'è la stellina di shiny, non è il colore che ha il fatto di leggendare, è shiny! Tra l'altro leggendario dovrebbe essere rosso, invece è giallo. Eh, che cazzo? Ma ti pare? Ma che culo c'ho? Mamma mia, Rayquaza! Mi fai volare, Rayquaza! Mi fai volare! Distrutto e devastato! Teniamo un sacco di roba, tra l'altro guardate, sposta il puntatore sopra... Eh? Ok, ci dà il rampicante, non lo voglio. Abbiamo la Venusaurite e la Power Band che non c'entra assolutamente nulla. E io fando a Keystone, how do you want to equip? Voglio questa roba qui, quindi? Oh mio Dio! Oh mio Dio, guardate, è un po' enorme, però ho il bracciale delle Mega Pietre. Che figata, ragazzi! Questa clip mi sa che la collocherò subito dopo la spiegazione che ho fatto all'intro, perché ci sta un botto. La Mega Pietre è bellissima e guardate qui, qui abbiamo il bracciale. Bellissima sta cosa, ragazzi. Sono andato sulla wiki a vedere e queste palestre, a quanto pare, spawnano nelle vicinanze dei villaggi. Quindi ciò cosa vuol dire? Significa che dobbiamo cercare un villaggio, o in pianura, o nelle savane, o nel deserto, e semplicemente potrebbe spawnarne una lì vicino, in teoria. Quindi dobbiamo cercare... Ragazzi, un villaggio! Attenzione, potenzialmente, essendoci un villaggio, potrebbe essere spawnata una palestra. E vedo qualcosa! Abbiamo trovato la nostra palestra! Ok! Madonna, però sta laggando di bestia il server. Sono dentro quattro persone, siamo in quattro, e più o meno tutti e quattro ci stiamo spostando, credo. Quindi la cosa inizia alla ghicchiare abbastanza. Che palestra è? Abbiamo trovato la palestra d'erba, credo. Innanzitutto come funziona sta roba, fatemi capire. Devo andare sotto, sto saltando bellamente tutti gli allenatori. Ragazzi, ci è andata proprio male, perché questa palestra è praticamente la palestra d'erba, che era l'unica già presente. Quindi non serve assolutamente a nulla questa cosa. È una palestra proprio base, quindi, vedete, sgranocchio e li sciottiamo tutti i perisi. Comunque non è un grosso problema. Qui ci sono delle ghicocche e c'è un labirinto da affrontare, ok. E ragazzi, siamo arrivati, credo, dal capo palestra, che lagghettine a parte. Chi sarebbe questo tizio? Mi butta uno schiplum in faccia senza neanche dire il suo nome e noi li andiamo a sciottare probabilmente... Oh, mi ha colpito? Lileppe, attenzione. Li andiamo a sciottare di cattiveria tutti quanti? Eh, ragazzi, quando Aira è quasi al 95, cioè, cosa vogliamo fare? Abbiamo vinto e abbiamo ottenuto la medaglia pianta. Quindi prendiamo tutto quanto e credo di... Posso spaccare e uscire da qui? Tanto questa palestra non credo interesserà a nessuno, dato che era già spawnata. Quindi ne è spawnata un doppione. Abbiamo avuto una sfiga assurda tra tutte le palestre che potevamo trovare, proprio questa qui. Vabbè, ok. Oh mio Dio, ragazzi, ma c'è un altro Mega Venusaur, questa volta non shiny. Davvero? Vabbè, io lo sfido. Come faccio ad arrivare a sopra, intanto? Li lanciamo... Siccome ne avevo già beccato uno prima di reccare, so che despawnano subito. Quindi sta... Ecco, vedete, è già despawnato. Durano davvero un battito di ciglia. E vabbè, niente, questo ce lo siamo perso, tanto l'avevamo già trovato. E sicuramente una cosa che accadrà in futuro è che partiranno le cacce boss, ragazzi. Partiranno le cacce alle megapietre. Sarà una cosa molto bella, ora che soprattutto abbiamo tutti i leggendari. Per il momento ci sono solo quattro megapietre. Sicuramente proverò a prenderle tutte prima o poi. Però è anche inutile stare qui a fare la collezione adesso. Dato che, comunque sia, ce ne sono pochi. Siamo solo all'inizio e ne arriverà un'altra bella sfornata. Attenzione, ragazzi, c'è un altro villaggio. Potrebbe essere la volta buona che troviamo una palestra nuova. Possibilmente vedo qualcosa. Quindi, cosa vuoi, Trapincio? Vai via. Mi sa di... No, sì. Che cos'è quel? No, è il Poké Center. Ma dai. Ma un Poké Center enorme sembrava qualcosa di più. Ragazzi, ci sono... Ci rimango come un mango qua, ve lo giuro. Però aspetta. Questa è una palestra? Oh, è una palestra! Ce l'abbiamo fatta! Ok, ragazzi, curiamo i nostri Pokémon. Beh, curiamo Rayquaza. Tanto la faremo solo con Rayquaza, probabilmente. Affrontiamo questa palestra nuova. Ok, abbiamo trovato una novità della versione. Bisogna entrare da qui. E cerchiamo di guardarla un po' tutta. Ok, non voglio affrontare... Tu chi sei? Ah, è la palestra roccia, innanzitutto. Ok, quindi diciamo che forse Rayquaza non è proprio il top. Però, tra l'altro, ma scusate, io potrei minare e saltarli tutti gli allenatori, in teoria. Qui c'è un buco preoccupante. Per il resto, la palestra è piena di allenatori. È buildata davvero molto bene. Figa come cosa. E perché non mi vedono? Non mi dovrebbero, tipo... Eh, ecco, questo qui mi ha incontrato. Gli altri hanno detto, no, questo qui forse è forte. Lasciamolo passare, va. Se ne occuperanno i piani alti. Noi non possiamo fare nulla. Tra l'altro, guardate... Oh, Propobas ha vigore. Resiste, però con un ultraggio, ragazzi. Rayquaza è troppo OP. Rayquaza si è confuso da solo. Però intanto abbiamo vinto la partita, quindi ci sta. E forse si resetterà anche la confusione. Mi sfida subito un altro, raga. Oltraggio, ragazzi. Oltraggio for the win. Li spacchiamo tutti con oltraggio. Guarda qui. Devastante. Devastante. Ragazzi, cioè, sta facendo tutto da solo. Con oltraggio Rayquaza. Sciallissimo. Noi passiamo quasi indisturbati, devo dire. Cioè, non ci sfidano tutti. Non è tipo il gioco Pokémon vero e proprio dove ti vedono. È Plym, ti sfidano. E meno male, perché guardate anche dalla minimappa. Ci sono un fottio di allenatori. Sono tantissimi. Ogni tanto qualcuno ti sfida. Altri ti evitano, perché forse ci hanno un po' di caga. Saltiamolo. Ma beccato lo stesso. Merda. Un Pokémon solo. Battaglia vinta. Va bene. Forse non devi tipo andare. Ecco, vedete, se voi andate nella loro area, nei loro dintorni, vi vedono e vi attaccano. Altrimenti, a quanto pare, no. E intanto noi ci alleniamo Rayquaza. Quindi sicuramente male non fa. Anzi. Lui ci ha avanzi. Perché è uscito Regigigas? Oh, non lo voglio Regigigas. Mi ha scambiato il Pokémon. Pesante sto Onix. Dai, muoricci un po', va. Solrock. Oltraggio is the way. Mi spiace. Ovviamente la visuale guardava altrove. Sono stato onesto, eh. Potevamo volare subito quassù e andare dal capo palestra. Ma ci siamo arrivati a gradi. Quindi, ora, la mia domanda è. In tutto ciò, dove e chi è il capo palestra? Sarai tu il capo palestra? Non lo so. Mentre Kenoya è precipitato. Leggiamo in chat. Stiamo arando questo tizio che ha sei Pokémon. Quindi potrebbe anche essere il capo palestra. Però se è così, non si capisce. Era il capo palestra. E ci dà l'uccidatura e la medaglia. Che cos'è? È la medaglia Cliff. Vole a dire scogliera. Che medaglia è? Non dovrebbe essere la medaglia rocce via. Comunque ce l'abbiamo fatta. GG. No, raga, guardate lì. Guardate lì. C'è un altro Mega Pokémon. Voi direte, ma sono ipercomuni. No, dovete pensare che loro sostituiscono i boss in questo momento. Il che cosa vuol dire? Che qualsiasi boss del gioco ora sarà per il momento o un Venusaur Mega o un Charizard Mega o un Blastoise Mega in attesa dell'aggiunta di altri Mega Pokémon. Quindi, vabbè, tra l'altro lo shottiamo easy. E questa volta, come vedete, droppiamo tutto. Non ci interessa sta roba perché non ci dà la Mega Pietra. La Mega Pietra è un drop garantito al 100% solo alla prima volta. La prima volta che voi battete il Mega Pokémon. Altrimenti c'è una possibilità, ma non è garantito. Quindi, solamente la prima volta avete il drop garantito dalla vostra Mega Pietra. Torniamoci a questo punto. Nella zona del team c'era per una... Perché c'è della neve per un attimo? Quanto... Che bug assurdo. Nevica nella mia... Oddio! Oh mio Dio, raga! Oh mio Dio, l'avete visto? L'avete visto? C'è un Mega Charizard X! Che figo! Ce ne sono due! What? Ce n'è un altro lì! Che cos'è? Ma è un party! Oh mio Dio, questo è shiny! È shiny! No, ma te sei matto! Aspè, via! Manda... Manda Rayquaza! Scendi e manda Rayquaza! Che questo ti spawna subito, raga! Manda Rayquaza! Stupido Rayquaza! Che ti scontri contro te stesso! Oh! Ok, forse la situazione è un po' buggata sotto sotto. È nulla, non cambia il fatto che vado di oltraggio. Tanto è di tipo Drago Mega Charizard. Beh, fuoco Drago. Quello X, però. Quindi, fighissimo ragazzi. Abbiamo... Vinto una Charizardite X e una banda scelta, più un sacco di roba. Voi ci prendiamo tutto in questo caso. E vedete, l'altro Charizard è despawnato. Perché durano davvero poco. Avendo messo che i boss, per il momento, sono questi tre boss. E vi ripeto, è una situazione momentanea in attesa dell'aggiunta di altre mega forme che arriveranno presto. Un po' per controbilanciare la cosa, cosa hanno fatto? Gli hanno resi probabilmente così. Cioè, che restano solamente pochi secondi e poi despawnano. Il che devo dire ci sta, perché sono rari, hai la visione, se non ti muovi, se non vai di cattiveria, te li perdi. E ci sta, potrebbe essere giusto così. È Mega Charizard Y, questo. Questa cosa è un po' anomala. Non lo prendiamo lui, perché probabilmente dispauna prima. Dato... Oh mio Dio, ma ce ne... No, raga, c'è un problema con la misa qui. C'è un problema, guardate. C'è un Mega Charizard lì. Che cos'è? No, quello è un altro Pokémon. Non c'entra un cazzo. È spawnato un Venusaur Shiny. C'è un Mega Charizard. Oddio, e ce ne... E ce ne un altro lì. No, ragazzi, che minchia sta succedendo. Ci sono quattro Mega Pokémon. Quattro? Quello è despawnato, ragazzi. È assurdo. È fottutamente assurdo sta cosa. Guardate, ce ne un altro... No, raga, sto biome è buggato. Ma è sto biome a sto punto. No, raga, attorno alla base del Team Magma spawnano, non si sa perché, un casino di... di Pokémon. Di Mega Pokémon. Io ovviamente li sfido, così ci facciamo l'esperienza, quantomeno. Questa roba è buggatissima. Questo è un bug. Non può non essere un bug sta roba, mi spiace. E in teoria li abbiamo visti tutti, a parte Mega Blast Toys. E direi di fermarci qui, ragazzi. Sicuramente ci sarà modo di collezionarle tutte, ma non è il caso di lasciare adesso, perché tanto, come vi ho già detto, ne aggiungeranno altri. Quindi sarà una sfida interessante, però per il momento i Mega Pokémon sono davvero pochi. E attorno alla base del Team Magma c'è uno strano bug, c'è qualcosa che non va. Comunque, io vi saluto, spero che questo aggiornamento vi sia piaciuto. Ci saranno molte novità a seguire, quindi sono contento che la mod e anche la serie si terrà sempre nuova, sempre viva. Mettete un like se il video vi è piaciuto. Nonostante ignoranza, io vi saluto. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.